Questa è la vendetta per gli scherzi che faccio a papà. Abbiamo attraversato la parete. Vuoi prenderci in giro? Devo dire che il buco nero è la cosa peggiore che abbia mai provato. No, 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 i pantaloni di formaggio erano peggiori, anche se di poco. Cinque mesi di ricerche per una specie di porca. Se fosse al posto vostro lo butterei via. Mettete la vostra invenzione nel bilone per i rifiuti speciali e portatelo subito alla discarica. Date libertà. Hai ragione, Johnny, grazie. Mi preoccupo per voi, ragazze. Dimmi, che cosa ci vuoi fare? Ci divertiremo tutti. Eh, Johnny? C'è subito il tuo frisbee nero. Tanto non ci vogliamo giocare, vogliamo soltanto, ma dove farti arrabbiare? Ma almeno è sincero. Dammelo subito, poi ti spedi sto in cena. Guarda, c'è una cosa che ti farà distrarre. Là. Dove? Dove? Corri. Prendiamo ora. Bene, qual è la seconda parte del piano? Ora vedrai, dobbiamo arrivare fino a quel muro. Salta nel buco. Questo è fantastico. Ora pensiamo a cos'altro fare con il buco nero. Andare in Cina non sarebbe una cattiva idea. Io parlo in cinese benissimo. Vedete? Prendi. Però, questa sarebbe la Cina. In effetti, è molto cinesi. Tu capisci cosa dicono? A me non sembrano a pattone che... Ecco, questa è donna militare. Mi ha dato l'accesso. L'ordine è per il fuoco. No, no, scusa, fuoco. L'ordine è fare fuoco. Cosa? Ma certo, guarda di nuovo. Salta nel buco nero. Non c'è. Levalo subito, levalo subito, Gianni. Va bene, siamo salvi. Non ci sono soldati in giro. Ora siamo al sicuro. Ci direbbe che abbiamo due buchi neri. Ragazzi, è proprio forte. Stando a quanto appena scoperto, dobbiamo assolutamente trovare il buco nero. Perché? Anche un buco nero così piccolo, in un bidone dell'immondizia, rischia di collassare su se stessa e di far scomparire la terra. La donna è il mio incontro. Ritroviamolo, demagnalizziamolo e neutralizziamolo. Gianni! Aiuto! Aiutatemi! Ragazzi, chi è che parla? Che fai? Non devi aiutarmi. Ho soltanto la testa. Non riesco a ritrovare il resto del mio corpo. E' uno scherzo fortissimo. Ho trovato un mano. Oh, ma che sta dentro una scatola. Scoprite che è da quella parte. Come vedete, signore e signori, nel cappello non c'è niente. Ma quando ci metto la mano... E adesso... E adesso... E adesso... Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, no. Hai detto grosso! Io ti accontento! Oh, no! Oh, no, 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 no! Grazie.